Siete in cerca di una ricetta facile, veloce e golosa con la zucca? Questo succulento e ghiotto sformato farà il caso vostro. Prepariamolo insieme e vedi che ti mangi! Dopo averla ben lavata, tagliamo la zucca a metà e priviamola dei semi e dei filamenti interni. Tagliamo ogni metà in due ed eliminiamo i residui di semi o filamenti interni e tagliamo la zucca a fette sottili. Vi consiglio di utilizzare zucche non troppo grandi, tipo delica o violina. Hanno la polpa più asciutta e sono molto più gustose. Terminata la pulizia, eliminiamo da ogni fetta anche la buccia. Trasferiamo le fette di zucca in una ciotola capiente e condiamole con olio, sale e un po' di pepe. Aggiungiamo un rametto di rosmarino tritato finamente con il coltello, due foglie di basilico spezzate con le mani e due foglie di salvia. Amalgamiamo il tutto con le mani in modo da condire in maniera perfetta e omogenea tutte le fette di zucca. L'uccidiamo con un filo d'olio il fondo della teglia. Formiamo il primo strato con le fette di zucca, disponendole una accanto all'altra e leggermente sovrapposte. Aggiungiamo la provola affumicata o la scamorza, tagliata a fettine sottili e le fette di speck sfilacciate con le mani. Aggiungiamo anche un po' di noci, fritate finalmente con il coltello e un'abbondante spolverata di formaggio grattugiato. Io ho utilizzato il parmigiano. Ricopriamo con il secondo strato di fette di zucca, sempre una accanto all'altra e leggermente sovrapposte. Copriamo la teglia con un foglio di alluminio e cuociamo in forno, preferibilmente ventilato, preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Trascorsi almeno 20 minuti, sforniamolo ed eliminiamo il foglio di alluminio. Proseguiamo la cottura alla stessa temperatura per altri 15-20 minuti. Sforniamolo nuovamente e ricopriamo la superficie con un po' di scamorza, un po' di speck, altre noci e una sfolverata di formaggio grattugiato. Proseguiamo alla cottura in forno, sempre a 180 gradi, per altri 10 minuti circa, giusto il tempo per la gratinatura. Serviamo lo sformato di zucca ben caldo e filante e sarà così buono, saporito e sfizioso che sono certa piacerà proprio a tutti.